è un amico, soprattutto quando ci fissano in campo è l'aria carino, floredana Antonio, buon cammino, questo è un cammino sempre va bene vici l'angella buongiorno, sono tutti gli atleti che hanno partecipato al Compece Senato vuoi dire qualcosa che ve lo vede? carissimo Antonio, sentite senza la tua camisa l'ultima di vostro motivo è il modo scherzoso che Antonio sta primeggiando senza la tua comparsa grande ciminello grande, grandissimo il grande presidente, il presidente dei presidenti grazie, sei molto gentile, sei il numero uno Marcello, sei sempre il numero uno, il migliore, il milione è il segretario il segretario è il cucino di don Alvatore, segretario? sì, il presidente mi mancano solo le donne di Trump ai donti Polino grande Marcello ciao interrenato cancelliere buongiorno come va? bene come va? come va? come va? come va? Pierina di Stefano buongiorno a tutti oggi è la prima tappa tutto a posto al momento temperatura gradevole e dai come è un inizio siamo felici benissimo ma grande Stefania e Chiavone è il grande milanese Giorgio Sett una grande Iena Enzo Buglione secondo Antonio Marcello Antonio Marcello come vuoi? Antonio va bene sei sempre un grande Toni grande Michele di Somma ciao Marcello Antonio sento una mancanza incolmabile vuoi dire qualcosa a Pellomelle? Pellomelle ci manchi ci manca qualcuno qua che ci accompagna siamo in a suo fianco il leone Antonio DiCaprio che vista si ripetono bene un bacio di Pellomelle ti vogliamo bene Antonio sei tra noi ciao andate voglio fare tutte porte non è vero niente non è vero ti vogliamo tutti bene il grande Massimo De Santis con il capitano Luigi Carreteruno sempre meglio grazie al politico capitano e a tutto il gruppo capitano come andiamo? benissimo benissimo il tempo è clemento stiamo divertendo abbiamo già sforato qualche piatto culinario e qui c'è sempre il Mastellone che tira sempre ciao Antonio non partecipate con l'onore ai della società federale e un grande amico e spero di rivederti presto ciao un bacio grazie grazie guarda sei sempre in gentile Fusca è la prima volta che vieni? sicuramente sarà una buona esperienza ma è la prima volta? sì ok buon divertimento guardo ciao Antonio ho visto che stai girando il mondo oh dove sei stato? sono stato alle Canarie isole Canarie è la stessa temperatura di qua 24-25 gradi anche un po' ventoso quanti chilometri è? e lì abbiamo fatto 6 tappe 30-140 km a tappa quindi fatti conto più o meno come qua 800-900 km è divertito come? sei divertito? moltissimo lì è la festa dei ciclisti ciclisti di tutto il mondo anche professionisti che vanno a svernare che vanno a svernare Pasquale Pasquale e Damiano ma non ci eravamo noi è vero è vero è vero ma non come noi è vero è vero Angelo dove sta? eccolo qua Angelo il grande Angelo Damiano olimpionico del 1964 a Tokyo specialità tandem specialità tandem a 64 con bianchetto che be' momenti passando eh vabbè adesso ci diventiamo lo stesso dai dai anzi con tanti amici come voi sono molto molto benzi eh vabbè va bene speriamo che continui così sta passando la la campionessa schiavone noi la seguiamo la seguiamo nei diversi tour che fa tour ciclistici sempre piazzata non fa più la spesa a casa prosciutto frutta verdura pasta quindi alimenta la sua dispensa e milio il poliglotta cioè il traduttore quanta lingua sai milio 4 lingue 4 lingue è internazionale ma le lingue quelle della bocca ma no ma anche qui quella lingua serve a parecchie cose ok ok è tagliente ecco pure Antonio sua Marcello tu sei sempre un grande se non ci fossi tu ti dovete inventare ma che vedono e scendono sto video qua mi fanno nero nero dicono che mi sono accordato non è vero Marcello sei un grande ti vogliamo bene ecco pure il il ballerino il barbiero Pasquale 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 il barbiero il ballerino una bellissima giornata la sera si rompe le salse va bene? ti diverti come signore è un partito speciale poi la propria sera per passare nel Lazio siamo vicino al ponte del Garigliano passato il quale ci troveremo in provincia di Latina va bene chi è qui? rallentamento hai sbagliato qua è la super strada hai sbagliato strada si è vantaggiato e hai sbagliato è Quintana chi è Quintana? ah benissimo bella tappa è il primo anno che vieni? si è il primo anno che ritorna e non sarà l'ultimo no? non sarà l'ultimo sarà l'inizio di una serie ok grazie complimenti a tutti questo è un leone vero non un leone a posticcio come un leone Antoni di Ape un leone vero eh? non sono un leone io sono al posto di leone ah hai cancellato è il posto di leone ah davide come? è il posto di Davide e perchè ha chiesto un leone? è perchè lui non è venuto più ah quindi hai preso il posto del leone ah allora sei un leopardo diciamo un leopardo ah è vero ah ah ma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo arrivati all'agriturismo in San Felice a Circeo, messo da parte le biciclette, ci accingiamo al rinfresco che ci hanno riservato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.